L'industria è cambiata da quando te ne sei andato. Voglio sapere cosa è capitato a Yankee. Qui la gente chiacchiera. Ma pare che tuo fratello, che Dio l'abbia in gloria, giocasse d'azzardo. Chi io solo sa che cosa ha combinato Yankee. Yankee! Yankee! Hai serpellito un fratello per non infangare il tuo buon nome. Voi un wolf, una delle famiglie dei diamanti più antiche di Anversa. Tu devi trovare criminali, spacciatori di droga. Smettila di occuparti dei diamanti. I diamanti non sono solo una questione di soldi. Il nostro sangue ne è pieno. Yankee ci ha lasciato più problemi di quanto immagini a dire la verità. Sono qui per il debito. Farò della Wolfson Diamonds la mia vendetta personale. Sono stata chiara! Non spetta a noi chiudere la società. La famiglia è un'autentica forza. E' un'autentica forza. Grazie a tutti.